Attraverso una razionalizzazione del servizio, una grandissima collaborazione da parte dei cittadini, anzi l'occasione per ringraziarli e soprattutto alla fine un'ottimizzazione anche di questa tassa che i cittadini devono pagare, attraverso un recupero anche di alcuni fabbricati che ancora non avevano denunciato i loro metri da poter pagare. Nello stesso tempo anche un'attenta politica per il recupero e la valorizzazione di questi rifiuti che ci ha consentito di andare pochissimo in discarica e di recuperare quanto più è possibile e nello stesso tempo lavorando anche come amministratori, oltre tutto il personale del Comune nel rendere meno passaggi burocratici e quindi che ti comportano dei costi enormi quindi evitando quello che si dice sempre il classico carrozzone con tante carte ma soprattutto persone che possono fare servizio in modo snello, efficace ed efficiente e da un punto di vista economico soprattutto indirizzato verso la casa, la civile abitazione quindi presso le famiglie in modo che ci sia un peso ancora inferiore visto l'enorme ormai aumento delle tasse sul cittadino medio e soprattutto coloro che sono poi monoreddito e quindi quest'anno riusciamo a mantenere questo trend o meglio abbassare questo trend e nello stesso tempo anche a recuperare la parte della rivendita di questi prodotti nobili carta, cartone, alluminio, vetro, plastica, insomma tutto questo che seppure non possiamo mettere in bilancio nel ciclo dei rifiuti da poter poi detrarre i cittadini li utilizziamo per altri servizi per la nostra comunità Ecco, per quanto riguarda gli altri aspetti del bilancio, le opere pubbliche, che cosa c'è in previsione? Anche in questo ci saranno diverse opere pubbliche, tante stanno partendo già adesso abbiamo espletato in questi ultimi tre mesi almeno dieci gare per sicuramente un miglioramento della vita e della nostra condizione sia sociale ma anche da un punto di vista economico, guardando sicuramente al futuro cercando di fare anche infrastrutture come metanizzazione, gli ultimi impianti fognari la riqualificazione anche della rete idrica in alcuni punti, della parte che riguarda la pubblica illuminazione e quindi questi investimenti che devono anche servire per uno sviluppo economico della nostra comunità insomma creare un circolo virtuoso di investimenti, di attraere investimenti a basso costo anche attraendo capitali da altre comunità ma anche da fuori regione e quindi investendo nel nostro paese affinché ci sia questo circolo virtuoso che ci consenta di creare occupazione ma nello stesso tempo di ridurre i costi ottimizzando la vita della nostra comunità ripeto, c'è tanto da fare, c'è tantissimo da fare se pensiamo che in questo momento di difficoltà economica c'è un innalzamento delle tasse, non ultimo questo dell'IRPEF da parte della regione Campania per i debiti sanitari e la speranza che tutti possano effettivamente eliminare il superfluo e indirizzare la propria vita politica, economica ma anche amministrativa verso solo ciò che può rendere benessere le nostre comunità